Mr. Clementi della Faloppiese, una partita importante anche per voi, era la prima ufficiale in Coppa, probabilmente, anzi sicuramente il risultato che vi rende felici, come hai visto la partita? A parte il risultato che ovviamente non è che mi rende felice, come ho detto è giusto, però ho visto i miei ragazzi belli e motivati, ho visto i miei ragazzi che hanno capito quello che voglio durante sia l'allenamento che la domenica della partita e ho visto delle belle trame di gioco, ho visto una bella aggressività e una bella mentalità, una dedizione a quello che stiamo facendo, quindi la strada giusta, di fronte avevamo una squadra importante, però non l'abbiamo sfigurato, è stata una bella partita, è giocata bene, a viso aperto, si è visto un bel calcio. Quindi da migliorare secondo lei per i suoi? Da migliorare sicuramente ha un aspetto fisico, solamente due settimane che ci stiamo allenando e non con la rosa completa, quindi c'è solamente da mettere dentro ancora un po' di lavoro, un po' di rapidità sicuramente perché verso la fine un po' sulle gambe eravamo, però analizzo il gioco e quello che gli ho chiesto in queste settimane è quello su cui stiamo lavorando e credo che oggi hanno dimostrato di aver capito. Quindi in parte diciamo che da questo punto di vista poi del gioco al di là del risultato c'è soddisfazione? Sì, c'è soddisfazione, non dimentichiamoci che giocavamo contro il Saronno, quindi voglio dire era un test più che attendibile. Mi sembra che la mia squadra abbia giocato con personalità, mi sembra che abbiamo sempre costruito manovre dal fondo, quindi partendo dal basso per poi cercare centrocampisti e attaccanti, poi ripeto, ovviamente l'aspetto fisico adesso conta tantissimo e in questo momento siamo un po' in ritardo e vedremo di migliorarci, di lavorare il sodo durante la settimana. Perfetto, grazie mister. Bocca al lupo. Bocca al lupo a voi.